pasta sfoglia, un taglierino, zucchero e nutella iniziamo ciao a tutti ragazzi e ragazzi, sono Aurora Ginna, sei youtuber per passione e bentornati sul mio canale visto che in questi giorni di quarantena non sappiamo più cosa fare perché c'è tantissimo tempo oltre ad allenarci la mattina o il pomeriggio come volete voi andremo a fare qualche ricetta e oggi faremo dei dolci molto semplici che io chiamo i nutellini prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella così verete avvisate ogni volta che usciranno i nuovi video e seguitemi anche su tiktok e instagram mi chiamo in questo modo iniziamo col video andiamo ad aprire la pasta sfoglia andiamo a mettere lo zucchero e lo andiamo a spargere in tutta la pasta sfoglia giriamo la pasta sfoglia e mettiamo dall'altro lato ora taglieremo la pasta sfoglia con il taglierino vi do un consiglio prima tagliatela in quattro lati e andremo a mettere la nutella prendiamo due cucchiaini per aiutarci mettiamo tutti i nutellotti nella teglia non vedo l'ora siano pronti quindi mettiamoli subito in forno secondo me verranno buonissimi ragazzi i nutellotti sono pronti sono già stati sfornati e adesso che sono un po' più freddi farò merenda e per non farci mancare niente mi sono fatta anche la spromuta mi sono fatta anche la spromuta mi sono fatta anche la spromuta Grazie per la visione!